Numero 3. Anche per lavori più impegnativi il motore da 2 HP sarà un'alleata affidabile, per una compressione dell'aria sempre efficiente e potente. Ognuno ha uno strumento diverso per il proprio lavoro, alcuni hanno bisogno di precisione e velocità, altri di potenza e affidabilità. Grazie al suo design robusto e alla qualità dei materiali utilizzati, questo compressore Stanley soddisfa le esigenze di ogni tipo di utilizzo, garantendo prestazioni elevate e durature nel tempo. Trovi il link di questo articolo in descrizione. Numero 2. Questo compressore Stanley da 50 litri è sicuramente uno dei migliori prodotti della linea, combinando potenza e capacità in un unico pacchetto compatto e leggero. Con i suoi soli 33,5 kg di peso e le dimensioni di 80 x 80 x 40 cm, è facile da trasportare e da utilizzare in qualsiasi situazione lavorativa. Dotato di un motore da 2 HP, offre una potenza ideale per far fronte a ogni tipo di carico di lavoro, garantendo prestazioni ottimali e durature nel tempo. Inoltre, i 50 litri di capacità del serbatoio offrono una grande autonomia di utilizzo, rendendolo perfetto per lunghe sessioni di lavoro senza interruzioni. Se ti interessa questo articolo, trovi il link in descrizione. Numero 1. Questo compressore Stanley è una scelta eccellente per chiunque cerchi un dispositivo affidabile e facile da usare per i lavori di bricolage e di casa. Con una pressione massima di 10 bar e 145 PSI, è in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di progetti. La sua manutenzione senza olio lo rende ancora più pratico, consentendo di risparmiare tempo e fatica. La comoda maniglia e la tracolla rendono facile da trasportare il compressore ovunque sia necessario. Inoltre, la sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità nel tempo. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Grazie a tutti.